Mameli, trama ed anticipazioni della nuova Fiction Rai Ovviamente, come suggerisce il titolo, la fiction Mameli racconta la storia di Goffredo Mameli. Quest'ultimo viene analizzato dal punto di vista di eroe e poeta del risorgimento, che con le sue parole è riuscito ad infiammare e ad appassionare una generazione di giovani. Si parte da Genova, la città che Mameli ha conquistato per prima, creando un gruppo di sostenitori e di persone che amavano lui e i suoi ideali. Tutti condividono i suoi punti di vista e la necessità di avere il coraggio di amare senza limiti. Al centro c'è anche chi combatte al fronte, sapendo che c'è il rischio di poter anche perdere la propria vita, ma con la sola certezza che il ricordo continuerà per l'eternità. La guerra in questione è la prima guerra di indipendenza, tra l'ardore di chi vi partecipa. Gli autori della Fiction Rai hanno dichiarato che in questa storia Mameli viene raccontato come se fosse una grande rockstar e come si fa per gli artisti moderni di grande fama. Infatti viene messo in scena il suo entusiasmo, il coraggio con cui guarda al domani ed il modo in cui è riuscito a far innamorare tutti di lui e del suo carisma. In questo modo la sua storia sarà accessibile anche per i più giovani dei tempi attuali. Per quanto riguarda il cast di Mameli, non sono stati rivelati tutti i personaggi e i loro interpreti. Rinaldo de Rinaldis, però, dovrebbe avere l'importante ruolo di vestire i panni del protagonista Goffredo Mameli. Nel cast sono presenti tanti altri volti delle Fiction Rai e non solo, come Neri Marco Rea e Maurizio Lastrico. Quest'ultimo è un volto di Don Matteo dove i telespettatori lo rivedranno forse per l'ultima volta. Per quanto riguarda la data di messa in onda, questa Fiction fa parte di quelle che la Rai aveva previsto di mandare in onda nel corso dei palinsesti 2023-2024. Salvo cambiamenti quindi Mameli dovrebbe andare in onda nella primavera del 2024, ma sarà necessario attendere per avere delle conferme ufficiali. Intanto invece è certo che la Fiction si svilupperà nel corso di quattro prime serate, durante le quali sarà raccontata la storia di Mameli. Ovviamente quindi non dovrebbe essere prevista una seconda stagione anche in base a ciò che è già trapelato, visto che la storia dovrebbe essere raccontata per intero. Per avere ulteriori dettagli e conoscere la data del debutto sulla Rai, però, bisognerà attendere ancora un po'. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa Fiction e pensate di iniziare a seguirla? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.